ciao ragazzi bentornati su hard rock crypto in questo video parleremo degli imminenti earnings di nvidia che sono un catalyst fondamentale per tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale arriveranno mercoledì ed è una grandissima occasione per la correlazione che c'è con le cripto tutto questo tra pochissimo prima di andare avanti ragazzi vi chiedo un fantastico like che per noi è fondamentale di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati qua sotto trovate i timestamp per saltare la parte di video che vi interessa di più oltre a tutti i social mi raccomando seguiteci su x ovviamente come sempre non do mai consigli finanziari oggi qua ragazzi mercoledì ci sono gli earnings di nvidia che sono ormai essenziali per wall street preggono tutto si attendono i risultati del loro nuovo chip blackwell capire quanto è richiesto e chiaramente in un momento di bull market così importante che stiamo vivendo anche nel mondo cripto avranno un impatto presumibilmente importante quindi se vogliamo piazzarci prima il trade è ancora valido per alcune coin non sono particolarmente esplose l'unica altra categoria che potrebbe performare bene che sta performando discretamente ma non ai livelli delle meme ovviamente è il settore dell'intelligenza artificiale la tecnologia più rivoluzionaria disruptive importante che abbiamo al mondo da tantissimo tempo probabilmente dalle dichiarazioni del ceo di nvidia jensen one questi earnings andranno molto bene la domanda la richiesta del nuovo chip blackwell è in inglese insane proprio folle una richiesta impressionante quindi molto probabilmente gli earnings andranno bene e probabilmente andranno bene anche le cripto correlate all'intelligenza artificiale e qua ragazzi speculiamo quando andiamo a vedere le principali monete per intelligenza artificiale abbiamo due trend molto importante abbiamo un settore dei pin ovvero dell'infrastruttura fisica perché sappiamo che i progetti di intelligenza artificiale richiedono moltissima potenza di calcolo di elaborazione eccetera e quindi il concept fatto molto brevemente quello di utilizzare la potenza di vari nodi piuttosto che computer in giro eccetera e creare delle reti decentralizzate per favorire l'intelligenza artificiale questo molto grezzo in vari modi qualcuno si occupa di instradamento qualcuno si occupa di decentralizzazione di archiviazione di dati eccetera quindi ci sono c'è di tutto poi ci sono naturalmente delle reti più dedicate al gaming più dedicate allo streaming chi fa una roba ibrida chi dà pura potenza e si focalizza su clientela enterprise chi si rivolge più ai privati eccetera i progetti principali sono praticamente NIR che era un layer 1 ma è ormai dedicata all'AI da quando praticamente il founder che ha scritto uno dei documenti più importanti sull'intelligenza artificiale NIR ormai ha questa narrativa e sta andando molto bene il prezzo non è ancora esploso ottimo hold Bitensor TAO che ormai è come una specie di coin fondamentale nel tutto il settore AI dove è possibile rilasciare altri progetti è una specie di ethereum dell'AI mettiamola così molto grezzamente e Render che ha il brand si occupa di appunto renderizzare di dare potenza di calcolo Render è ancora su questi livelli molto alti che fa ben sperare su altri progetti daping per quanto mi riguarda i progetti daping non sono un trend sul quale punterò io personalmente magari pochissimo cioè nel senso non con alta convinzione perché ce ne sono troppi abbiamo GPUNET abbiamo IONET abbiamo Render abbiamo Akash abbiamo in parte IOS però fa anche altre cose sarà il mio progetto prescelto e tra un po' ci arriviamo abbiamo GRASS che ha già spinto tantissimo quindi ha già dato potrà dare ancora ovviamente abbiamo NOSANA ne abbiamo tantissimi ragazzi quindi al di là di Nvidia e di un trade sul breve quali sono le coin che teoricamente possiamo portarci avanti per tutto il bull market se vogliamo tenerle in hold eccetera le più grosse per essere chiari sono NIR, Render, Bitensor, IOS ci credo parecchio ancora sotto il billion è salita purtroppo oggi sostanzialmente basta per io ho detto perché non punterò tanto sul daping o magari un pochino tanto per ma con poca convinzione quindi tante piccole scommesse probabilmente saliranno un po' tutte ma c'è troppa competizione nel settore daping c'è un po' di dispersione e quindi per quanto mi riguarda adesso c'è la narrativa degli agenti gli agenti sono fondamentali sostanzialmente si tratta di un'intelligenza artificiale che specifica una determinata funzione che ne sono un agente di trading e tra l'altro ce n'è uno che ho selezionato che può essere Spectral market cap ancora molto accettabile 156 milioni di d'oro sono sostanzialmente un agente per poter implementare strategie di trading così molto semplicemente come c'è scritto qui nell'esempio ti dice fai una scansione di base ogni 6 ore compra il token tal dei tali controlla il wallet di vitali che vede se ci sono novità non riesco neanche a leggerlo comunque spettacolo potersi rivolgere a un agente AI come fate con chat GPT come facciamo con chat GPT piuttosto che il vostro diciamo strumento preferito e nel frattempo effettuate operazioni in DeFi in maniera molto semplice come ad esempio vendi tutti i miei non lo so Doge e compra Shiba, Pepe faccio un esempio molto stupido non devo andare io fisicamente a loggarmi da tutte le parti vendere, comprare, spostare fa tutto lui, quindi spettacolo chiaramente questo non è ancora tutto funzionante sulla carta ma c'è già sta narrativa in giro ne parlano già per cui da tenere d'occhio 150 milioni upside importante perché ovviamente con un BitTensor che ad esempio vale 3.6.000.000 capite che è molto più facile per un Spectral passare da 150 milioni a solo 5-600 milioni se poi arrivasse al billion che non è che ci voglia proprio tutto sto granché perché una meme coin nata una settimana fa fa 2 billion quindi agenti Spectral con l'idea dell'agente DeFi top poi c'è il ticker più intelligente del Panorama AI uno dei più belli è AGI che è appunto un settore, un campo dell'AI che è l'AGI quindi fantastico anche questo 220 milioni di dollari e anche la Fully Diluted è molto buona 500 milioni questa qui a 17 centesimi l'Oltimei è stato a marzo 67 centesimi non siamo ancora all'Oltimei un'ottima opportunità per Delisium è una blockchain di agenti quindi è fantastico questo vuole collegare i vari AI agents in maniera autonoma e quindi stanno facendo delle cose molto complesse non voglio entrare nel tecnico ragazzi il video durerebbe tantissimo e quindi studiatelo io la vedo come una grande opportunità market cap basso ticker interessantissimo AGI i nuovi retail che arriveranno dopo aver fatto i soldi con Solana perché naturalmente entreranno sul mercato bitcoin costa troppo diciamo compriamo un po' di Solana ho sentito che va bene Ethereum non lo comprerà nessuno che costa 3.000 dollari dopodichè i primi guadagni li gireranno su DOGE poi si accorgeranno che c'è roba che guadagna più di DOGE e andranno a vedere faranno un po' di ricerca poi ci sarà la I e quindi un ticker come questo se fai mezz'ora di ricerca ci capiti sopra e può interessare poi c'è anche il unity bias ovvero per un nuovo arrivato e anche io la pensavo così quando vedi il prezzo basso del token ti incentiva a comprare quella cosa perché naturalmente Bitensor è una figata tutto quello che volete però costa quasi 500 dollari e arrivo lì e vedo AGI ticker fantastico 17 centesimi ottimo Nosana potrebbe andar bene fa parte del settore GPU mettere in sharing la propria potenza eccetera per un semplice motivo è su Solana Solana sta andando alla grande quindi Nosana potrebbe andar bene ci sono già tanti stakers 14.000 stakers il market cap è relativamente basso 250 milioni quindi anche Nosana può essere una play interessante IOS è più completo fa un po' di più fa un po' di tutto fa AI fa dei pin storage quindi e streaming quindi è un mix è una play ancora abbastanza interessante è salita oggi tenetela d'occhio ma è comunque sotto il billion ed è molto interessante secondo me IOS questa è una play molto interessante è più rischiosa ovviamente market cap 76 milioni di dollari è completamente diluito non è sugli exchange più grossi non è su Bybit non è su Binance non è su Coinbase quindi già il listing può far pompare questa coin è venuta a fare varie cose come l'encryption FHE che è il termine molto complicato fully homomorphic qualcosa del genere comunque una criptazione un criptaggio se si può dire molto avanzato quindi eh garantisce una sicurezza incredibile dei dati e della privacy questa importantissima nel settore AI lo fa naturalmente in maniera decentralizzata eh marketplace è un incubatore per nuovi progetti AI insomma vogliono fare un po' di tutto una scommessina la possiamo mettere non so se per forza dovrà andare alla grande per questo earning di Nvidia perché appunto ancora piccolino sconosciuto ma prima o poi quando l'AI prenderà piede appunto un market cap da 70 milioni può fare tranquillamente 300 400 500 milioni poi se va molto di più tanto di guadagnato naturalmente prenderò profitto nel mentre un altro agente dell'AI market cap ridicolo 18 milioni questa qua è fantastica valutate voi fate le vostre ricerche è un agente che fa trading mantiene la privacy fa yield optimization gestisce la vostra defi e quant'altro partnership con layer zero oasis che per quanto riguarda la privacy e banana gun è un bot che va alla grande veramente più rischioso perché è un market cap molto più basso allora ragazzi iniziamo da iods deve passare in questo momento la resistenza si trova sul 0,618 del ritracciamento di fibonacci dai picchi di marzo deve superare questo blocco qua e successivamente punterà praticamente all'ultime che è intorno al dollaro c'è un 25% circa di guadagno naturalmente stop loss subito sotto qua quindi ci sta assolutamente come trade Bitensor sta temporeggiando è su un ottimo livello di prezzo 493 dollari in questo momento ma c'è anche un test e coda qua che potrebbe realizzarsi vediamo da tenere d'occhio Bitensor si potrebbe anche comprare su livelli più bassi vediamo se il mercato prende forza cosa farà Tao ma è un livello comunque interessante per il resto del bull market sto cercando di seguire Tao naturalmente per ora sembra non riuscire a superare questa trendline sulle quattro ore NIR sta per passare una resistenza settimanale quindi una resistenza pazzesca e quindi NIR è una zona d'acquisto in questo momento ed è un ottimo hold con il target intorno agli 8,50 circa che è del 2022 ed è ancora lontano render è appena arrivato ora al 38,02 sul settimanale dopo il breakout vedete qua è uscito da questo trend settimanale è riuscito a breccare e quindi primo take profit intorno ai 9,80$ render molto interessante anche lui andate sui timeframe più bassi naturalmente per mettere il vostro stop sono tutti set up abbastanza chiari quindi questa è un po' la mia idea giocarsela su quelle più grosse Tau render NIR queste cose qui IOTS e poi puntare magari su qualche gemma sulla narrativa degli agenti che secondo me sarà importantissima andando avanti sto speculando non ho assolutamente la palla di cristallo prova a indovinare quali saranno i trend che andranno quindi se ci va bene avremo un trade da qua a questa settimana si tornerà a parlare di AI poi ci sarà il nuovo chat GPT eccetera penso che la narrativa continuerà fino alla fine dell'anno e anche il prossimo anno naturalmente è il trend più importante non solo di questo ciclo ma in generale al mondo quindi prima o poi l'AI prenderà piede tutte queste coin esploderanno questa è la mia speranza ovviamente quindi fate le vostre ricerche per acquistare tutte queste coin vi serve naturalmente un exchange e in un bull market ragazzi serve averne tanti perché può succedere che ti chiedono l'integrazione del kyc l'altro giorno volevo provare le opzioni ad esempio una cosa che non faccio mai e l'exchange di turno mi chiedeva tutto quanto fonte di reddito un sacco di roba proof of residency prova di residenza delle cose devastanti che non avevo in quel momento ero al bar praticamente e quindi bisogna avere queste cose pronte per affrontare il mercato perché avevo un'opzione avevo un trade praticamente già fatto che mi era stato regalato e non ho potuto farlo perché non ero pronto sull'exchange quindi non ho seguito il mio stesso consiglio non fate anche voi come ho fatto io perché magari arrivano delle occasioni e quindi ho perso il guadagno perché non ero pronto e bisogna avere tantissimi exchange io ne ho veramente almeno più di 10 più avanti ci sarà un'euforia pazzesca loro non saranno in grado di processare magari il kyc e tutte ste robe e quindi sarete ralentati e non potrete fare il trade e quindi perderete dei soldi se non volete problemi di privacy documenti eccetera potete venire naturalmente su zumex se non è che voi si quindi fantastico e offre a questa competizione sulla categoria più calda in questo momento quella delle meme coin la competizione finisce tra cinque giorni quasi sei giorni potete tradare queste coin qua alcune delle più famose bonk popcat doge eccetera c'è anche grass potete vincere fino a 20.000 usdt fantastico ci sono 10 dollari per i nuovi utenti in regalo dovete avere un volume di trading di almeno 50.000 usdt per poter partecipare alle reward non dovete cercare di fregarli utilizzando più ip e cose di questo tipo e quindi potete puntare a 20.000 usdt di premio fantastico ragazzi con il link qua sotto in descrizione avrete anche 20 dollari con un deposito di almeno 100 usdt e naturalmente le due promozioni sono cumulabili quindi mi raccomando 20.000 dollari di volumi qua se volete partecipare solo se siete trader esperti link qua sotto approfittatene e ringraziamo gli amici di zumex quindi ragazzi sfruttiamo il catalyst di nvidia vediamo quanto reagiscono le cripto questo sarà anche un indicatore importantissimo per il proseguimento del bull market avete le mie top coin e le scommessine la narrativa degli agenti soprattutto che secondo me performeranno bene poi sono piccole cap con più potenziale chiaramente più rischiose fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre se avete apprezzato il video distruggete il tasto like seguitici su x mi raccomando e noi ci rivediamo al prossimo video sempre con la sua hard rock cripto